che è stato uno studente che ha fatto sia la tesi di laurea che il dottorato di ricerca nel gruppo nostro e ora sta facendo un postdoc a Zurigo e questo al momento è al CERN. Quindi io lascerei direttamente la parola a loro che sono attualmente nella sala di controllo di CMS e poi si possono presentare un po' più in dettaglio se vogliono e possono iniziare a parlare. E prima, scusate solo una cosa, prima di dargli la parola, mi ero dimenticato, vi volevo dire che questo non è un documentario, questa è proprio una visita interattiva. Noi vediamo e sentiamo loro, loro vedono e sentono noi, quindi io vi interaggerei a partecipare, fate domande, chiedete, tutto quello che vi viene in mente è un'opportunità che non succede tutte le volte. Quindi certo, certo, non c'è nessun problema, quindi se avete domande non esitate a farle anche durante queste esperienze. Detto questo lascio la parola ai nostri colleghi al CERN. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti e benvenute innanzitutto. Come ha detto Lorenzo, io sono Roberto e sono un ex studente di Firenze. Ho fatto a Firenze tutti i miei studi di fisica, laurea triennale, laurea magistrale, dottorato e adesso lavoro al Politecnico di Zurigo come ricercatore, ma in realtà sto sempre qui al CERN. Lavoro, come ha detto Lorenzo, all'esperimento CMS e stasera vi faremo vedere il più possibile, vi faremo vedere la sala controllo, vi faremo vedere l'esperimento vero e proprio sottoterra e vi racconteremo un po' cosa facciamo qui, come funziona. Come ha detto Lorenzo, questa è davvero una chiacchierata, quindi interruzioni sono assolutamente benvenute, qualsiasi domanda, curiosità è benvenuta. Detto questo lascio a Sonia, il mio collega qui, presentarsi. Allora, io mi chiamo Sonia, vengo da Roma invece, sono qui a CERN da un pochino più di tempo, giusto un pochino di più, io ho fatto invece i miei studi a Roma fino, diciamo, quasi al momento della tesi di laurea, perché appartengo al vecchio ordinamento, sono venuta qui a CERN e ho finito la mia tesi di laurea qui a CERN, poi ho passato un anno al Politecnico di Lausanna fisica, fisica delle particelle e dopo un anno invece sono entrata in una collaborazione che è una collaborazione per il mio dottorato, che si proponeva di costruire un esperimento di particelle, ma che sarebbe stato installato sulla stazione spaziale internazionale e che quindi mi ha veramente, come dire, appassionata, ho deciso di fare questo e sono diventata a quel punto fisica delle astroparticelle. Fondamentalmente non cambia niente, siamo fisici tutti e due delle particelle, cambia solo la sorgente da dove prendiamo i dati, o dall'acceleratore, come nel caso di Roberto, o dallo spazio, come nel mio caso. E parallelamente mi occupo anche di comunicazione qui a CERN, quindi diciamo amo incontrare il pubblico e sono pienamente d'accordo che ci sono solo domande, non c'è qualità di domande, non ci sono domande intelligenti e domande stupide, quindi per favore aiutateci a costruire questa visita insieme interagendo come fanno le particelle tra di loro. Assolutamente. E in un certo senso siamo agli opposti, no? L'esperimento in cui lavori tu sta nello spazio e noi stiamo sottoterra. Esatto, e si distinguono soltanto per una lettera, CMS e AMSA, tutto per dire, così magari lo individuiamo questo esperimento, anche se non ne parleremo oggi, è l'esperimento che è stato riparato un paio di anni fa da Luca Parmitano e che però è stato messo in orbita allo spazio da Roberto Vittori. Quindi diciamo c'è una grande componente anche italiana, non solo nella costruzione ma anche proprio nella gestione dell'esperimento stesso, quindi dobbiamo essere anche orgogliosi di questo. Come è vero anche per CMS. È vero, è vero. È una grande componente italiana, ora voi siete a Firenze all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha dato un grande contributo nella costruzione di varie parti dell'esperimento, ma in particolare di una, di cui magari parleremo un po', che è il tracciatore. Però detto questo, insomma, magari possiamo andare a farmi un po' una panoramica di dove siamo, esattamente. Esatto, allora io faccio una cosa, visto che tanto tu ti occuperai di dare questa panoramica, eccetera, invece io sono l'addetto a portarvi nella caverna, quindi dovrò scendere a 100 metri sottoterra, cercherò in qualche maniera di farvi vedere attraverso i miei occhi e le mie immagini e le mie emozioni, perché nonostante tutto io mi sono sempre a fare queste cose, cosa c'è lì e quanto può essere affascinante e quindi mi devo preparare, quindi toglierò adesso le cuffie, metterò un casco, ho già le scarpe preparate e pian pianino comincerò ad aggirarmi in questo posto, un po' magico. Adesso ti racconto due cose. Lascio la parola a Roberto, ciao ciao. 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 A dopo. Non so se Lorenzo vi ha già fatto vedere qualcosa di simile, immagino di sì, però tanto giusto per ripetere. Ci troviamo appunto al CERN di Ginevra, non proprio in questo caso, il CERN di Ginevra si trova qui, vicino a questo magnifico lago di Ginevra e al CERN parte questo enorme acceleratore che si chiama LHC, è veramente impressionante, è un anello di 27 chilometri di circonferenza e sta circa 100 metri sotto terra. Ora la profondità reale è varia a seconda di dove ci troviamo, ma comunque siamo lì. A cosa serve questa macchina mostruosa? Magari lo sapete già, ma serve a sondare la struttura della materia nel suo più piccolo, nella sua parte più fondamentale, se vogliamo. Potete pensarlo in due modi, se volete. Potete pensarlo come un enorme, più potente microscopio, in un certo senso, che sia mai stato costruito, e anche un po' come una macchina del tempo, in un altro senso. Perché? Quello che facciamo al CERN, nell'LHC, è accelerare particelle, di solito protoni, ma non solo, protoni che sono, saprete, i costituenti fondamentali, una delle particelle che compongono, diciamo, la materia, in particolare i nuclei degli atomi. Noi prendiamo questi protoni, sostanzialmente da un gas di elio, lo ionizziamo, quindi togliamo all'atomo di elio, scusate, di idrogeno, l'elettrone, e quindi rimaniamo con un protone. Perché è una particella, ha una carica elettrica, e questa particella la iniettiamo in questo anello, in realtà ci sono una serie di pre-acceleratori, che sono le precedenti strutture del CERN, e quello che facciamo è accelerare queste particelle fino a una velocità che è molto, molto, molto vicina alla velocità della luce. È la più alta velocità che riusciamo a raggiungere in laboratori, in situazioni controllate. Gli unici esperimenti in cui si raggiungono energie, velocità più alte, sono esperimenti come quello a cui lavora Sonia, dove le particelle arrivano dallo spazio, e queste particelle che arrivano dallo spazio a volte hanno delle energie veramente eccezionali. Tuttavia, quello che è il vantaggio di uno strumento come l'LHC, l'acceleratore del CERN, è che queste energie le riusciamo a raggiungere in modo molto controllato. Cosa ce ne facciamo di accelerare i protoni a queste energie molto alte? Lo scopo è di realtà di farlo in due direzioni separate, quindi da qui potete pensare che iniettiamo le particelle, le facciamo girare in entrambi i sensi, le acceleriamo finché riusciamo, quindi a una frazione quasi il 100% della velocità della luce, quasi, dopodiché le facciamo scontrare fra di loro, quindi le particelle arrivano in due direzioni opposte e le facciamo collidere. Perché ci interessa studiare cosa succede quando collidiamo le particelle? Perché quando collidiamo le particelle possiamo guardarci dentro. Il protone non è una particella che chiamiamo fondamentale, particella fondamentale quando dice, quando noi i fidici delle particelle parliamo di particelle fondamentali, intendiamo particelle che non sono, non hanno componenti interne, non sono fatte da altre cose, d'accordo? Potete pensarli come dei mattoncini che non potete spezzare in altri pezzi, ok? I protoni non sono così, i protoni hanno dentro altre cose. Quindi facendo scontrare due protoni, noi possiamo prendere questa enorme energia della collisione e trasformarla in altre particelle, particelle che di solito non esistono nel mondo perché sono instabili e noi quali possiamo riprodurre. Quindi possiamo indagare cosa c'è dentro il protone, come si comporta la materia al suo livello più fondamentale. Quindi questo è, diciamo, l'aspetto da microscopio di questa enorme struttura. L'aspetto di macchina del tempo. Dimmi, Sonia. Eh, volevo, scusa se ti interrompo, stavo cercando il momento giusto per entrare. Visto che qui fa un po' freddino qua fuori, allora volevo, volevo dare brevemente mostrare questa, questa veduta esterna, eh, perché la trovo interessante. Allora, qui ci troviamo all'esterno del, diciamo, dell'edificio dove è stato assemblato totalmente questo esperimento. Allora, questo esperimento poi vedrete, Roberto ve lo spiegherà meglio, ma diciamo che la forma dovete immaginarvelo un cilindro, non in piedi, ma steso. Eh, posso darvi un confronto, eh, per farvi capire la forma. Pensate a una viennetta, d'accordo? Ok? Bella stesa così. Allora, questo, questo cilindro, eh, ha una lunghezza di circa ventuno metri e se uno taglia, fa la sezione trasversale, quindi della fetta famosa della viennetta, sono quindici metri, quindi un palazzo di cinque piani. Allora, questo oggetto è stato assemblato in questo edificio che vedete qui alle mie spalle e noi ci entreremo dentro, quindi poi magari mi avvicinerò anche a una foto che ha grandezza uno a uno e sotto i nostri piedi qua, a meno cento metri, abbiamo la caverna sperimentale dove poi l'esperimento è stato portato. Eh, vi farò vedere, vi vi commenterò anche un attimo qual è stata la tecnica per poterlo portare giù, perché è molto interessante e ha utilizzato una gru che veniva dal porto di Genova, l'abbiamo affittata e allora è riuscita a percepire la dimensione, adesso vi metterò anche un pochino più vicino qua per darvi l'idea, io non sono molto alta, eh, sono un metro e sessanta, diciamo. Eh, ecco, potete vedere quanto è grande, bene, questa gru è stata installata al di fuori di questo edificio per poter scendere queste fette di viennetta di cui vi parlavo, cioè ciascuna fetta del rivelatore, perché è stato costruito proprio in varie fette che poi sono state tutte quante messe insieme a ricostruire il cilindro totale. Io adesso lascio di nuovo la parola a Roberto e Roberto ti interrompo ancora un'altra volta quando sono dentro vicino alla foto per poter descrivere un attimo come è stato calato l'esperimento, va bene? Ottimo, sì. Esperimento, figurati, grazie a te. Quando Sonia parla di esperimento, parla appunto di CMS, io per ora vi ho raccontato più che altro dell'acceleratore, quindi abbiamo l'acceleratore che accelera questi protoni e li fa scontrare, questo è il primo ingrediente, se volete, della fisica che facciamo qua al CERN. Chiaramente c'è una seconda parte altrettanto importante, che è una volta che abbiamo fatto collidere le due particelle e generato tutta un'altra serie di particelle, vogliamo vedere cosa è successo. Questa seconda fase è dove interviene l'esperimento vero e proprio, che adesso Sonia vi farà vedere. Il nostro esperimento si chiama CMS, sta per Compact Mew on Solenoid e è sostanzialmente una gigantesca macchina fotografica 3D. Ora vedete dove è Sonia, lascio di nuovo magari la parola a lei, perché è davanti a un'immagine 1 a 1, in scala 1 a 1, di una fetta di questo gigantesco cilindro che è questa macchina fotografica 3D che chiamiamo CMS. Prego Sonia. Allora, grazie mille. Mi avvicino prima alla foto e poi vi faccio vedere dove era l'esperimento in questo edificio. Allora, guardate come divento piccola, è veramente una cosa... Dunque, è vero che io sono già piccolina, ma lo divento ancora di più. Questo è... Adesso divento il nostro metodo, di fatto. Ecco qui, questa sono io e questo è un palazzo di cinque piani sulla mia testa. Bene, questo oggetto qui è proprio sotto i miei piedi, ad una distanza appunto di 100 metri e dovete immaginare quindi che la caverna che lo contiene è non solo grande quanto, ma anche più grande. Ok? E questa è solo la sezione. Poi Roberto vi spiegherà tutti i pezzi, come sono composti, ma se vogliamo continuare con il confronto della viennetta direi che ci siamo, perché vedete che ogni strato c'è la cioccolata, c'è la valiglia, insomma, potremmo fare questo confronto che magari a quest'ora della sera va anche bene, vero Roberto? Eh sì, un buon destello. Perché diciamo che il destello ci può andare. Sì, chiaramente in questo caso... Cercando di essere un po' più seri. Allora, se adesso ci giriamo, dietro alle mie spalle, forse riuscite a intravedere delle strutture gialle, allora cercate di focalizzare verso il fondo. L'esperimento andava da questa struttura gialla che vedete, la prima vicino a me, più vicina, fino a quella in fondo. Questa è la lunghezza di questo cilindro. E io in questo momento mi trovo su un pavimento il cui spessore è di circa due metri e mezzo o tre metri di cemento, che quando abbiamo degli stop abbastanza lunghi, questo di solito succede dalla fine di novembre, diciamo dal mese di dicembre fino a febbraio, oppure e lo chiamiamo short shutdown, mentre invece abbiamo dei periodi in cui rimaniamo fermi per un anno, apriamo questo pavimento, scorre, e ve lo sta facendo vedere appunto Noemi che com'è che si nasconde dietro la webcam che vi fa vedere, eccolo qua, scorre dietro questo pavimento e di fatto lascia aperto questo foro da cui abbiamo calato queste fette. potete immaginare, non so se Noemi può venire qui con me, potete immaginare che il diametro di questo foro, il diametro di questo foro è di fatto quanto il diametro della fetta. se vedete la fetta allora potete immaginare quanto è grande il foro, tenuto conto che rimanevano soltanto 10 cm a destra e 10 cm a sinistra quando lo abbiamo sceso, insomma se dovessi farvi una simulazione, prendo per esempio il mio dosimetro qui, immaginate il foro e questo oggetto che cala in questa maniera, che scende così dentro, soltanto con 10 cm a destra e 10 cm a sinistra di spazio. Quindi una cosa di estrema, diciamo così, precisione, quindi si è andati molto lentamente e la gru era installata fuori da questo edificio. Questa è un'opera, come dire, mi viene da commentare che questa è anche un'opera, se volete, che fa vedere che le competenze qui al CERN sono diverse, non sono semplicemente quelle dei fisici di particelle e dei ricercatori di fisica, ma ci sono evidentemente anche ingegneri civili, geometri, tecnici, tutte queste competenze messe insieme per poter realizzare un progetto che è quello appunto dell'esperimento di cui vi continuo a parlare adesso Roberto perché io entro nell'altra sala e ci rivediamo prima di entrare davanti alla porta al pad, va bene? Ottimo, grazie. Ok Roberto? Ok. Grazie. Perfetto. Roberto non ti sentiamo. Ecco, ora mi sentite. Ora ti sentiamo. Ho sbagliato il verso del microfono, scusate. E come vi diceva Sonia, diciamo l'analogia della viennetta funziona perché CMS è davvero pensato a strati. Ok, questa che vedete qua è uno schema di questo cilindro. Prima avete visto una fetta, questo è il modello tridimensionale. Voi per capire come funziona questo esperimento vi dovete immaginare che le particelle entrano dai due lati, da questo tubo arancione qua, che lo chiamiamo beam pipe, quindi un fascio di particelle entra da questo lato e un analogo fascio di particelle entra dall'altro lato. La collisione avviene nel cuore di CMS, nel centro, d'accordo? CMS, come vi dicevo, è sostanzialmente un'enorme macchina fotografica che registra in 3D tutto quello che esce fuori dalla collisione, quindi qualsiasi particella, quasi, diciamo, qualsiasi particella che viene prodotta dalla collisione. Questo include elettroni, questo include protoni, include particelle più esotiche come pioni, k, lambda, insomma, potete mettere qualsiasi lettera greca e c'è una particella che ha quel nome. Include anche fotoni, quindi particelle di luce a molta alta energia. Neutrini sono, forse conoscerete, sono sostanzialmente l'unica cosa che non riusciamo a registrare, questi scappano, però il resto, diciamo, riusciamo a fotografarlo tutto. E' fatto a strati perché ogni strato ha un ruolo importante. Il primo strato è quello che chiamiamo tracciatore al silicio, che è stato, tra l'altro, in buona parte costruito dove siete voi, Firenze, e questo è il ruolo importantissimo di seguire le particelle, mentre dal centro di collisione volano attraverso il rivelatore. Quindi fa proprio una, quello che chiamo foto 3D, che vedete magari meglio qui, vedete tutte queste tracce gialle e queste sono delle particelle, per esempio un protone, un elettrone, che volano attraverso il tracciatore e volando attraverso il tracciatore vengono registrate. Il tracciatore è fatto di diversi strati, ogni strato registra il punto di collisione della particella, e così facendone possiamo ricostruire la traiettoria di volo della particella. Tutto questo, diciamo, cosa ci serve? Ci serve perché usiamo un trucco. Il trucco è che sta nella... If you don't mind, I would change to Sonja. Yes, ok. Ok, mettiamo in pausa questa discussione. Then you will continue when they go down. That's perfect, that's perfect. Ok, allora, in pausa questa parte qua, ridò la parola a Sonja che sta per andare giù. Grazie, scusami. Sì, no, io stavo sentendo, io ti sentivo. Allora, non ho distrutto l'LHC, ma ne ho un pezzo in mano. Dunque, ho sentito che appunto Roberto stava parlando del tubo dove passano le particelle. Eccolo qui. Questo abbiamo un modello. Adesso mi sono un po' allontanata perché non c'era tanta connessione lì, ma questo è un pezzo del tubo dei fasci. In realtà ce ne sono due, paralleli così. È un pezzo del tubo dei fasci che io ho in mano. Ok? Questo non è stato mai usato, però insomma vi dà l'idea. Questo è metallico, non è sempre metallico. All'interno dell'esperimento del rivelatore della famosa viennetta cambia anche materiale, se avremo tempo ne parleremo, ma diciamo che per tutto il percorso dell'anello invece ci sono due tubi paralleli che si susseguono. Ho anche sentito che Roberto andava bene, secondo te, il paragone della viennetta. Allora io oso qualcosa di più. Tutti quanti conoscono un kebab e normalmente il kebab ha lo stecchino e poi la carne intorno. Bene, prendiamo lo stecchino così e mettiamolo in orizzontale. Poi sapete cosa facciamo? Questo stecchino lo allunghiamo moltissimo e lo facciamo diventare un grande anello. E questo è il nostro LHC e la carne intorno è il nostro esperimento. Quindi questo per dare un altro esempio di un'altra cosa. Bene, lascio per un attimo questo tubo qui e visto che devo entrare dentro, vi spiego come entrare dentro da questa porta. Questa è una porta di accesso per entrare nella zona sperimentale. È fatta soltanto per le persone, non per il materiale. Vi mostrerò per il materiale dopo. E bisogna, si è sottoposti a tre controlli. Il primo è un controllo di peso dove fortunatamente non si vede quanto si pesa, ma il sistema verifica, adesso noi vi fa vedere, bisogna mettersi in questo quadrato con i puntini gialli, forse riuscite a vedere questo. Ci si mette lì, quando si entra dentro, il sistema verifica che effettivamente il peso è compatibile con quello di una persona. Dopodiché ci si fa ovviamente riconoscere anche quando si entra all'entrata. C'è un altro test che è quello che non permette di portare, per esempio, degli zaini, del materiale. E quindi ci sono dei raggi infrarossi che vanno a controllare che effettivamente non si porti nulla insieme a sé. E terzo controllo, importante, se qualcuno di voi ha visto il film Angeli e demoni, forse si ricorderà nella prima parte c'è qualcosa di legato a questo sistema, è il controllo dell'iride, il controllo biometrico che viene fatto attraverso questa macchinetta e che riconosce personalmente, questa qui, riconosce personalmente, ovviamente ciascuno di noi, perché abbiamo depositato l'immagine della nostra iride qui nel database del CERN. Io adesso mi faccio riconoscere attraverso il mio dosimetro personale, entrerò e vedrete come, sperando che il sistema mi faccia passare. Adesso entro, eccomi qua. La porta si è chiusa, il che vuol dire ho passato il check dei raggi infrarossi e adesso il controllo dell'iride. Io sono passata, ora aspetterò che passi anche Noemi con la webcam. È un po' più complicato per lei, proprio perché sta portando un oggetto, c'è, diciamo, una maniera, perché l'oggetto comunque è piccolo, e c'è un modo di poterlo far passare nel sistema, però effettivamente spesso siamo rimandati indietro. Adesso Noemi farà il controllo anche lei dell'iride e forse ci siamo, è stato fatto, eccola, esciamo. Entriamo nella zona sperimentale. Se voi foste qui di persona, come vi avreste accesso a questa area? Vi dirò quando comincerà la parte dove nessun visitatore è ammesso a poter entrare. Per il momento facciamo il percorso dei visitatori. Abbiamo altre porte di accesso qui, da questa parte qui. Ce ne sono altre due. Le vedete? Sono sempre per le persone che lavorano qui e che possono entrare. E poi abbiamo questa porta blu che adesso Noemi mi fa vedere. Io intanto chiamo l'ascensore. è la porta invece per il materiale. Ora vedrete l'ascensore che deve arrivare perché era stato, in effetti era giù, era quasi a meno cento, a novantasette metri. Adesso sta risalendo velocemente. È un ascensore abbastanza veloce. Io entrerò dentro e di fatto Roberto ti darò quasi subito la linea perché si perde la connessione all'interno dell'ascensore per un piccolo tratto e la riprenderò sotto per mostrare la zona davanti all'ascensore e dire qualcosa sulla sicurezza, su tutti i sistemi di sicurezza che abbiamo qui e come vengono attivati, che cosa significa avere un'allarme evacuazione, tutte queste cose qua, che di fatto io come esperienza ho avuto soltanto nelle simulazioni, non mi è mai successo veramente di avere... Sì, 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 no, ma in effetti poi siamo tutti quanti, come dire, sono gli stessi allarmi che si fanno nelle scuole quando si fanno... Ecco, qui abbiamo l'ascensore, come vedete è un grande ascensore e qui ci sono i vari... Abbiamo dei livelli, abbiamo il livello superficie che è zero, il livello meno uno che è il meno 80 metri, diciamo più o meno, il livello meno due è il meno 90 metri, il livello meno tre è il meno 100. Noi andremo al livello intermedio, che è quello poi del tubo dei fasci, a meno due, quindi io adesso premo il bottone qui e do la linea a Roberto e magari fin tanto che potete seguite le immagini che vi continuiamo a mandare. A dopo! Grazie, a dopo! E ha una cosa importantissima da dire, è che il trucchetto di Angeli e Demo in realtà non funziona, per chi non l'ha visto è una scena un po' macabra in cui tolgono l'occhio a un fisico del CERN per passare lo scan dell'iride, in realtà non funziona, perché se l'iride non è errorata, allora il sistema non ti fa entrare, quindi se voleste, non provate a entrare in questa maniera. Mentre noi mi scende, c'è una domanda per caso? Ho sentito un po' di rumore. Una risata! Ottimo! Si è fermato sulla ricetta indietro nel tempo, se hai fermato non l'hai interrotto la... Sì, perché Roberto ci dicevi che possiamo paragonare l'acciaio a un microscopio ma anche a una macchina del tempo. Ah sì, ottimo! Il motivo è come si è evoluto l'universo. La teoria attuale della nascita e evoluzione dell'universo ci dice che l'universo in origine era molto molto concentrato, rubo giusto altri cinque minuti a Sonia e poi le ripasso la parola, era molto denso, molto caldo, tutta la materia era concentrata in un punto molto piccolo, dopodiché c'è stata una rapida espansione, quello che chiamiamo Big Bang e questo corrisponde con, via via, un raffreddamento dell'universo. Voi potete immaginare che se voi comprimete la materia sempre di più questa si scalda sempre di più e viceversa. Quello che facciamo all'LHC è appunto fare una sorta di rewind. Potete immaginare che aumentando l'energia di collisione delle particelle voi state studiando come si comportava la materia via via più indietro nell'universo, d'accordo? Voi sapete, immagino, che la temperatura, se non lo sapete, è così, la temperatura della materia è una misura di quanto velocemente le particelle di cui è fatta si muovono. Quindi, andando a fare collisioni fra particelle a velocità estremamente alte, come facciamo qui, stiamo sondando il comportamento della materia a temperature estremamente alte, che erano quelle presenti nell'universo un istante dopo la sua origine. Quindi, in questo senso, più riusciamo a aumentare l'energia delle collisioni, più andiamo, ci avviciniamo come tipo di fisica, come studio di come si comporta la natura all'origine dell'universo. Quindi questo era un po' quello che vi volevo dire, spero che risponda alla domanda. Perfetto. Perfetto. Allora, ridò la parola a Sonia, che nel frattempo è arrivata a Sottoterra e vi racconto un po' Sì, sono arrivata. Sono entrata direttamente per darti un po' più di spazio per continuare questa cosa. Volevo solo fare un commento, sono pienamente d'accordo con te. Un rewind. In effetti, l'LHC fare le collisioni è come avere una macchina del tempo che ci porta indietro e ci permette di produrre quelle gocce di materia primordiale che poi possiamo studiare e attraverso l'evoluzione di questa materia che abbiamo prodotto dopo le collisioni capire l'evoluzione dell'universo. Quindi, non so se tu sei d'accordo con me, Roberto, ma in effetti abbiamo sia una macchina del tempo che ci riporta nel passato con l'acceleratore e nello stesso tempo quando riusciamo a capire con la fisica e a determinare delle formule siamo in grado anche di predire il futuro perché io a quel punto quando so ho una formula che mi dice come non so per esempio con cui posso calcolare la velocità con cui cade un corpo se non cambia nulla e fra mille anni c'è sempre la stessa forza di gravità per esempio sulla Terra un oggetto della stessa massa cadrà sempre nella stessa maniera. Quindi, di fatto abbiamo la maniera di andare nel passato e nello stesso tempo per dire il futuro quindi questa è una cosa che quando ho studiato fisica non l'avevo capita l'ho capita dopo con il passare del tempo e la trovo veramente come dire intrigante. Ora, quello che faccio la camera la sala dove sto per passare da cui vi farò e vi farò vedere delle immagini è una sala di elettronica molto rumorosa per me non per voi ma molto rumorosa quindi per me è difficile parlare quindi lascio a Roberto l'incombenza di descrivere un po' le cose diciamo io dico soltanto questo per poter leggere capire cosa succede all'interno dell'esperimento abbiamo bisogno di tirare fuori tutti i segnali elettrici elettronici di carica e di analizzarli con cosa lo facciamo? Con dell'elettronica e l'elettronica è qui e la vedrete ed è solo una piccola parte di tutta l'elettronica diciamo del cervello dell'esperimento il cervello dell'esperimento sostanzialmente è diviso in una parte che è proprio nella caverna attaccata alla viennetta una parte qui più altre stanze che non vi mostrerò ma che sono diciamo tipo questa e poi c'è una parte superiore che è più che altro composta da computer tutto questo insieme ci permette di determinare di capire cosa è successo e poi di andare a studiare quello di cui Roberto vi parlava quindi Roberto io ti lascio la parola magari faccio un segno con le mani e niente ti lascio descrivere un po' il trigger perché qui è veramente difficile per me parlare va bene? Ottimo grazie grazie e se questo se volete è la terza parte della catena di come funziona questo esperimento abbiamo detto l'acceleratore genera le collisioni l'esperimento CMS rivelatore sì questa è una zona diciamo in cui voi non potreste andare ma Sonia può lei è autorizzata la seconda parte diciamo l'esperimento CMS che registra questa collezione la macchina fotografica e questa se volete è la terza parte dove dobbiamo leggere la macchina fotografica e salvare le immagini quindi i dati che la macchina fotografica ha registrato ci piacerebbe molto poterli salvare tutti la verità è che non possiamo perché non possiamo perché LHC l'acceleratore è una macchina magnifica talmente magnifica che fa un numero di collisioni al secondo che sostanzialmente non possiamo sostenere fa una collisione quindi fasce nell'acceleratore collidono una volta ogni 25 nanosecondi o se volete 40 milioni di volte al secondo questo significa che 40 milioni di volte ogni secondo CMS scatta una foto tridimensionale di quello che è successo in quella collisione ora ognuna di queste collisioni sono una marea di dati perché CMS è un sistema molto complesso ve lo farà vedere dopo Sonia nella caverna ma è un esperimento veramente complesso è fatto di tante parti tante tecnologie diverse ma diciamo quello che ci interessa in questo momento è che ogni foto pesa diversi megabyte ora voi dite che cosa saranno diversi megabyte se voi diversi megabyte li fate per 40 milioni di volte ogni secondo questi diventano rapidamente centinaia e migliaia di terabyte che voi dovete salvare e questo non lo possiamo fare per fortuna per nostra fortuna non tutte le collisioni sono interessanti ed è qui che entra in gioco questo sistema di trigger se volete semplificare un po' la visione delle cose voi potete immaginarvi che le collisioni fra protoni possono avvenire diciamo frontalmente oppure di striscio le collisioni di striscio sono quelle in cui viene scambiata meno energia quindi possiamo produrre meno particelle interessanti se volete c'è una domanda? scusate c'è una domanda? no per ora ok ok grazie quindi dicevo le collisioni di striscio sono quelle che ci interessano un po' di meno le collisioni frontali sono quelle che invece ci interessano perché qui viene sprigionata la maggior parte dell'energia e quindi ci permette di studiare appunto quello che dicevamo prima di andare più indietro nel tempo a studiare come si comporta la materia quindi ci vuole un sistema che analizza si sta facendo vedere le correnti in gioco questo sistema in particolare di alimentazione di alcuni dei rivelatori di cui è fatto CMS quindi serve un sistema che fa un'analisi molto molto rapida automaticamente naturalmente di ognuna di queste 40 milioni di foto al secondo e decide quali sono potenzialmente interessanti quelle che il sistema che si chiama appunto trigger grilletto d'accordo reputa interessanti quando viene trovata una di queste collisioni che sembrano interessanti il sistema scatta appunto da questo grilletto manda un segnale di nuovo a CMS dicendo a CMS dammi tutti i dati e a quel punto tutti i dati di quella collisione lì vengono spediti in superficie dove vengono analizzati viene fatta una seconda fase di scrematura e poi vengono salvati a quel punto e concludo c'è l'ultima fase della catena che ci porta poi al risultato vero e proprio che è la parte di analisi che è la parte su cui in realtà lavoro io e su cui lavora anche buona parte delle persone che sono lì con voi a Firenze ma di questo non sarei a parlare adesso riderei la parola a Sonia che è quasi arrivata nella seconda caverna esatto che è la parte più divertente quella che dicevi l'ultima parte quella come si dice croce e delizia la chiamerei perché è quella che magari in cui passiamo a volte le notti perché noi riusciamo abbiamo il famoso baco nel programma che però è anche quella che ci dà più soddisfazioni quando riusciamo a risolverla allora perché mi sono fermata qui ho fatto questo giro appunto veloce avete visto come erano eh anche organizzati i cavi c'è un lavoro veramente anche di di precisione se volete eh tutto fatto nell'idea che ehm se mettessimo i cavi in maniera sparsa non si riuscirebbe a ritrovare il cavo nel caso in cui ci fosse un problema quindi dobbiamo veramente organizzarli in una maniera precisa e avete visto come sono raggruppati come sono piegati eccetera questo punto è importante perché di fatto la parte da cui sono venuta fa parte le caverne sono due ve le faccio con le mani perché è vero che c'è una una mappa ma io intanto ve la faccio con le mani poi so che hanno eh c'è una una mappa che vi può essere mostrata sono due caverne parallele una è più stretta e lunga ed è la caverna che ho percorso da metà fino a questo punto che è il punto eh più estremo in parallelo c'è un'altra caverna che è un po' più corta e più larga che è la caverna dove c'è la macchina fotografica l'esperimento le due caverne sono connesse qui abbiamo un corridoio di connessione che io adesso percorro per arrivare dove per arrivare davanti a un'altra porta che questa volta è gialla ma funziona esattamente come quella verde quindi dovremo rifare di nuovo l'accesso eh esattamente come abbiamo fatto prima è una porta ancora per persone quindi la dovremo fare eh quando non si può entrare nella caverna ci si ferma qui questo è il punto massimo eh di accesso dei visitatori quando ci sono le collisioni in questo momento non ci sono le collisioni visitatori ma anche persone che lavorano non si può entrare nella caverna normalmente quindi ci si ferma qui quando non ci sono le collisioni possiamo anche portare visitatori non in questo momento ma in alcuni periodi quindi si bypassa questa porta e si entra dentro come adesso vi farò vedere ma tuttavia noi andremo ancora più dentro di dove possono andare normalmente i visitatori quindi adesso mi faccio riconoscere di nuovo dal sistema e provo a rientrare sperando questo è un sistema un pochino più diciamo preciso di solito c'è sempre un po' più di problema per poter passare qui ma vediamo un po' sembra sia andata sì penso di sì dovrei sì io sono passata adesso aspettiamo un attimo Noemi tra l'altro scusa ti interrompo ma siamo molto fortunati a poter andare dove stai andando giusto perché normalmente noi durante tutti i mesi tranne quelli invernali prendiamo dati quindi l'acceleratore in funzione come dicevi non possiamo andare nella caverna giusto esatto ci fermiamo esattamente dove stavo io prima dall'altro lato cioè neanche noi so che qualche volta viene detto ecco Noemi è stata bloccata quindi continuo un attimo a parlare è stato detto qualche volta viene detto che ci sono persone che entrano durante la collisione le collisioni i fasci queste sono tutte storie come si dice adesso in linguaggio moderno fake news non è vero cioè se c'è collisione anzi non è solo perché non vogliamo portare la gente dentro ma sarebbe anche dannoso perché a cosa serve portare una persona non si vede nulla è tutto buio non ha nessuna nessuna utilità eccomi qua il corridoio prosegue e siamo quasi arrivati questo lo fareste anche voi nel caso ci fosse accesso e siamo davanti alla porta di entrata della caverna per entrare su un balcone che è quello dove si fermano veramente visitatori anche quando si può entrare ma noi andremo oltre eccolo qua la porta è bella pesante e c'è una una differenza di pressione quindi avete sentito il rumore della porta ed ecco qui questa è la balconata e vedete ovviamente l'esperimento che è questa parte rossa allora qui c'è la parte di chiusura questa che vedete qua davanti è arancione anzi se volete è la parte di chiusura dove all'interno c'è il tubo dei fasci ovviamente questo è un accesso breve quindi non è che è stato aperto e questa questa parete rossa che vedete è la la parte finale della famosa viennetta non so no la viennetta finisce a strati ma se ci fosse uno strato di cioccolata ecco questo sarebbe lo strato di cioccolata riconoscete forse la bandiera non so se si vede la bandiera del Pakistan perché in realtà come diceva Roberto prima cioè è vero che questo esperimento è stato fatto da da tantissime università e anche da CERN quindi c'è la collaborazione anche di un eh di un'università pakistana così come c'è la 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 collaborazione anche di di università italiane e e di e di altri paesi ora io vado nella zona dove i visitatori non possono andare eh Roberto mi muovo un po' e magari se tu vedi ogni tanto che faccio segno perdoni qua eh che faccio segno e magari mi dai mi passi un attimo la parola perfetto e vi diceva Sonia perfetto scusa dimmi tutto ho visto che mentre Sonia entrava c'era un sacco di cartelli pericolo radiazioni ecco e cos'è che poi mai che succede perché lo è quando è attivo quindi quando quando l'acceleratore è in funzione le particelle che vengono generate dalla collisione attraversano alcune di queste la maggior parte viene contenuta da CMS e alcune delle particelle ecco lo vedete qua è abbastanza sempre notevole da vedere nella sua interesse è impressionante è impressionante Roberto io l'ho visto tantissime volte ed è veramente impressionante farò vedere poi dall'alto dalla balconata se ci riesco a salire sopra sul tetto proprio dell'esperimento è un palazzo di cinque piani ed è chiuso ovviamente adesso esatto vedete la caverna quanto è grande vedete rimane ancora spazio quindi in realtà è qui sopra la testa non so se riuscite a vederlo c'è di fatto il famoso buco dove io prima ero con la fotografia questo è il famoso buco da cui è stato sceso l'esperimento esatto quello che è il pavimento mobile Noemi lo sta inquadrando proprio in questo momento ora io stavo ancora studiando quando è successo ma posso solo immaginare quanto deve essere stata la tensione di far scendere ognuna di queste fette da svariate tonnellate fino giù deve essere stato abbastanza notevole esattamente allora giusto così visto che abbiamo che tu prima mi avevi invitato a parlare di AMS è la stessa cosa che è successa da AMS quando l'abbiamo dovuto trasportare invece con l'aereo a Cape Canaveral e abbiamo fatto tutte quante le cose fatte per Benino abbiamo lo abbiamo chiuso in una bellissima scatola e quando siamo arrivati all'aeroporto ci avevano mandato un aereo leggermente diverso di modello più nuovo per cui la scatola con l'esperimento non entrava dentro quindi queste cose succedono abbiamo potuto smontare una parte delle rotaie dell'aereo non dell'aereo stesso ma diciamo di entrata all'interno del cargo dell'aereo per poter infilare la scatola con l'esperimento abbastanza notevole sì allora provo a entrare qua per andare sul tetto vai nel frattempo finisco il discorso radiazione che mi chiedeva Lorenzo e quindi dicevamo quando l'acceleratore in funzione vengono prodotte le collisioni alcune di queste particelle che vengono prodotte escono da CMS e sono sostanzialmente delle radiazioni radiazioni sono particelle che arrivano addosso dallo spazio da elementi radioattivi in questo caso dalle collisioni c'è anche un secondo effetto in realtà anche le particelle che vengono fermate dentro CMS comunque lo rendono temporaneamente radioattivo si chiama attivazione appunto questo fenomeno quindi tutto CMS quando l'acceleratore in funzione è radioattivo ma è un tipo di radiazione prettamente temporanea quando l'acceleratore smette di funzionare nel giro di qualche ora la radiazione è sostanzialmente completamente assente quindi è già assolutamente sicuro entrare in caverna e lavorarci noi detti ai lavori ci possiamo entrare appunto già dopo qualche ora dallo spegnimento dell'acceleratore se chiaramente abbiamo un motivo per i visitatori aspettiamo di più per eccesso di zelo se volete ma è anche giusto e quindi nonostante tutti fare i cartelli in realtà è assolutamente sicuro cosa dove si trova Sonia esatto Roberto io ho evitato di parlare era di questo che volevo parlare prima ho evitato per entrare qui magari poi se abbiamo tempo quando si torna su si può ritornare su questo discorso dicendo semplicemente che al CERN già i limiti europei allora diciamo i limiti europei sono in Svizzera sono ancora più stringenti dei limiti europei sulla radiazione e il CERN ha dei limiti ancora più stringenti di quelli della Svizzera quindi è veramente iper sicuro riuscite a vedere qua il panorama io sono sul tetto del palazzo vedete questi bocchettoni rossi al lato questo è un sistema antincendio diciamo che l'ultima carta che ci giochiamo nel caso in cui ci sia un incendio qui e si debba spegnerlo perché è chiaro che ci sono altri sistemi locali sull'elettronica ma se nulla funziona da questi bocchettoni di fatto esce schiuma di CO2 che copre completamente l'esperimento e noi speriamo sempre di non doverlo fare non è solo per l'incendio ma perché nel momento in cui mandate questa spuma ignifuga sull'esperimento penetra in tutte le parti ed è impossibile ripulirlo di fatto l'esperimento diventa un pezzo da museo quindi noi controlliamo che il sistema sia sempre in ordine ma speriamo di non doverlo mai usare infatti è stato provato una sola volta giusto e Zoltan che è vicino a te ti potrà dire come si chiama tu lo sai come si chiamava quel test no non ho idea allora se lo dico Zoltan allora il party della schiuma si chiamava il form party giustamente il party della schiuma sì esatto perché cerchiamo di renderci la vita come dire abbastanza piacevole io adesso ti lascio la linea scendo sotto vado ai piedi invece vado veramente vicino ai piedi dell'esperimento va bene seguitemi con le immagini e ti lascio la parola in frattempo chiacchiero vi diceva Sonia prima una cosa che diciamo che rende particolare il CMS rispetto a tutti gli altri esperimenti del CERN è appunto questo suo essere fatto a fette d'accordo nessun altro degli esperimenti del CERN è fatto così il CERN ha molti esperimenti di quali quattro diciamo sono quelli che come scala sono paragonabili al CMS però nessuno è fatto così il CMS è stato costruito proprio lo vedete forse l'avete intravisto forse ve lo possono far vedere Sonia e Noemi è proprio fatto a fette ognuna di queste fette è stata calata giù la fetta più diciamo più pesante senz'altro è quella centrale perché nella fetta centrale dimmi tutto Roberto ecco le fette le puoi individuare con ecco con le scale sono praticamente le strutture esatto con le scale sono queste strutture esatto e come vi diceva vi accennava Sonia quando dobbiamo fare un intervento chiaramente in queste condizioni è impossibile perché non c'è spazio per entrare questa tra l'altro è la C del nome di CMS C sta per compact voi direte vabbè è un palazzo di 5 piani o 6 piani 6 o 8 addirittura non mi ricordo mai la matematica se lo sdraiate come fa a essere compatto è compatto perché non ha spazi vuoti se volete dentro quindi non potete entrare a fare manutenzione chiaramente questo complesso ha un sacco di componenti anche molto complicate quindi le cose si rompono è normale quando si rompono vanno sostituite bisogna fare manutenzione in queste condizioni non si può fare quindi come vi accennava Sonia quando ci fermiamo per periodi più lunghi quindi ora siamo fermi per circa una settimana quindi non lo facciamo ma quando ci fermiamo per esempio ogni inverno o addirittura per degli anni fra un periodo di presa data e l'altro quello che facciamo è aprire CMS a fisarmonica se volete quindi vi potete proprio immaginare ognuna delle fette che si allontanano l'una dall'altra la fetta centrale rimane lì e si apre come una fisarmonica a quel punto possiamo andare fra una fetta e l'altra a estrarre i componenti di cui dobbiamo fare manutenzione se serve portarli in superficie attraverso uno dei due fori che collegano le due caverne alla superficie lavorare a fare quello che dobbiamo fare e riportarli giù e reinstallarle e questo movimento avviene come ora magari vi fa vedere Sonia utilizzando diciamo delle cinghie che tirano ognuna di queste fette ma da sole non sarebbe sufficiente allora c'è un sistema di aria compressa che magari Sonia poi vi spiega che ci aiuta solleva leggermente diminuisce la pressione che queste fette esercitano sul terreno e ci permette di spostarle prego Roberto mi senti ti sento ok allora Noemi stava mostrando adesso una panoramica allora se adesso mostra vi faccio vedere di fatto se volete il verricello la chiamatela la gru orizzontale insomma come volete voi c'è questo sistema di cavi vi faccio vedere guardate questa è la mia mano quindi potete vedere ogni cavo eh d'acciaio quanto è grande e come vedete ce ne sono vari e questi cavi vengono attaccati alla fetta e poi questo sistema tira indietro quindi di fatto diciamo che il movimento è un po' come quei quando si aprono quelle librerie nelle biblioteche a fette no tipo organetto quindi io aggancio ad una fetta e questo sistema tira una delle cose importanti è che si tira sempre non si spinge mai quindi se devo richiudere ci sono altri cavi dall'altro lato che tirano in senso opposto giustamente Roberto diceva anche un'altra cosa non basta semplicemente tirare perché chiaramente l'oggetto è pesante ognuna di queste fette diciamo la più pesante pesa duemila tonnellate ora una tonnellata per darvi un confronto si può fare con tante cose a me piace farlo diciamo con un oggetto che si usa tutti i giorni una macchinina non so una Fiat 500 qualcosa del genere più o meno immaginatevi che è una tonnellata allora immaginatevi che il peso equivalente di tutta la viennetta di tutto l'esperimento è 14.000 Fiat 500 una sopra l'altro e ogni fetta circa duemila quindi è un peso enorme come fare per muoverlo agevolmente tant'è che si riesce a spostare per di circa un metro più o meno diciamo in mezz'ora si riesce a fare allora Roberto vi parlava di questi di questi sistemi ad aria compressa in effetti sono i piedi dell'esperimento ce ne sono tanti questo è in primo piano qui ma ce ne sono anche tanti altri dietro e vedete che ogni piede è corredato da questi tubi e l'aria compressa viene proprio pompata sparata dentro cosa fa? solleva un pochino questo questo piede qua ok? lo alleggerisce più che sollevarlo e poi come si faceva una volta non so se si fa ancora quando si dava la cera sui pavimenti no? si mettevano le pattine eh? si mette pure un po' di grasso per fare in modo che la che ci sia meno attrito e quindi quando il verricello tira è molto più agevole poter spostare tutta quanta la fetta chiaramente capite che una è un processo di estrema precisione che bisogna fare perché l'esperimento per quanto sia grande ogni pezzo ogni fetta è allineata a livello di pochi micron stiamo parlando di una distanza che è più piccola della sezione di un capello umano quindi non si può disallineare non si possono fare eh diciamo tirare più da un lato che dall'altro tutto deve essere fatto con molta attenzione sia in apertura che in chiusura chiaramente questo lo controlliamo anche con dei fasci laser con dei sistemi elettronici ma diciamo che questo è il principio che pensateci un attimo cioè riuscire a sollevare 2000 tonnellate con l'aria è un po' come vedere un aeroplano che decolla e pensare che l'aeroplano si arrampica nell'aria perché c'è semplicemente perché c'è il sostegno dell'aria è vero ci sono i motori ma è il sostegno dell'aria che lo tiene su l'aria che non si prende ed è bellissimo Roberto faccio un'ultima cosa perché questo è vediamo se mi riesce perché non abbiamo campo magnetico ma io ci provo a vedere che cosa succede qua no queste non funzionano perché di solito abbiamo di questi strumenti molto diciamo eh ad alta tecnologia sì alta tecnologia molto costosi eh che utilizziamo ma vediamo qua questo magari sì guardate un attimo ecco cosa c'è ancora questo questo oggetto che chiaramente sta vicino al magnete che è all'interno è ma resta un po' magnetizzato anche adesso non abbiamo il campo magnetico ma lui resta magnetizzato vediamo se riesco a farlo anche con qualche gaffetta colorata che forse si vede meglio vedete io ho tutta una mia dotazione sono un po' titubate questo lo sto facendo davanti a voi perché è la prima volta che lo faccio ecco si mantiene probabilmente non fa lo stesso effetto dell'altra ma insomma perché c'è un po' di plastica intorno però vedete possiamo farlo facciamo anche un'altra cosa vediamo se ne attacchiamo un'altra sì sì ah vedete guardate un attimo riuscite a vedere le graffette si sono messe in piedi le vedete e questo nonostante il magnete sia spento in realtà attualmente nonostante il magnete sia spento campo residuo esatto guardate come si muovono guardate come si muovono sembrano vive le vedete salgono scendono e questo allora io penso che ci sia un pubblico misto quello che mi piacerebbe dire è questo è chiaro che io io Roberto e tutti i miei colleghi che siamo qua e quelli che sono anche lì abbiamo deciso di fare della fisica al nostro mestiere quindi siamo dei tecnici di questa cosa e andiamo ad imparare anche le formule le equazioni quelle di cui parlavamo ma la bellezza di questo fenomeno indipendentemente dalla conoscenza delle equazioni è qualcosa che può capire anche un bambino di cinque anni quindi la fisica che viene dalla parola greca che vuol dire natura di fatto è qualcosa di cui tutti possono gioire e percepire a seconda del livello di conoscenza che si ha del fenomeno fisico questo è è semplicemente divertente e bello da vedere adesso vi faccio un'ultima cosa e poi ti lascio la parola e torno su vorrei vedere se riesco magari lo facciamo allora così riusciamo a farlo vediamo quanto ne riusciamo a mettere esatto facciamo un attimo vediamo quanto ne riusciamo ne metto una blu spero che si veda ancora sta ancora sta guardate che stiamo facendo una calibrazione come vedere quanta farina può pesare una bilancia ok mettendoci cento grammi per volta allora vediamo un po' ho paura che questa sia l'ultima ci proviamo ah vedete si stacca proviamo con quelle metalliche e poi ti lascio la parola aspettate una catenella vi da tra l'altro l'idea di quanto sia potente il magnete quando è acceso perché ora appunto è spento dopo magari vi racconto un po' sì io ti lascio la parola poi mentre torno su sto guardando se riesco a mettere perché non avendo la plastica forse riesco a mantenerla di più vedete infatti la quarta ce l'ho messa vediamo un po' questo è un esperimento questo è fisica questo è fisica non è io non sto facendo non mi sto inventando niente questo è fisica eccolo là e vedete con quelle metalliche si va eccola là sta crollando ok basta mi fermo qui mi fermo qui grazie come direbbe Zoltan mi sono persa come al solito no no ma che figurati è sempre sempre divertente vedere alla fine i magneti sono la cosa più affascinante anche per un fisico di carriera guarda questo che si muove in piedi guarda questo che si muove in piedi sembra un ballerino Freddasterlo lo chiamiamo dai ok mi fermo qui perché altrimenti continuerai per ore no appunto questo secondo me è un'ottima indicazione appunto di quanto in realtà questo magnete sia potente quando è in funzione e questo è uno dei magneti senz'altro più potenti del mondo non tanto in termini di intensità del campo magnetico il campo magnetico si misura in Tesla che è l'unità di misura dell'intensità del campo magnetico e contate che il campo magnetico terrestre ha un'intensità di qualche millesimo di Tesla e qui parliamo in realtà di 4 Tesla che è molto 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 più grande il campo magnetico terrestre ma non solo il magnete crea questo campo questa intensità di campo magnetico su un volume è molto grande appunto abbiamo cercato di farvi capire quanto è grande CMS e tutto l'esperimento viene permeato da questo campo magnetico potentissimo quindi quando il magnete è spento solo la magnetizzazione residua del ferro è già visibile a occhio nudo con delle graffette vi potete immaginare cosa sia questo campo magnetico quando il magnete è acceso giusto per darvi dei numeri la corrente che serve a generare il campo magnetico di CMS è circa 12.000 ampere 12.000 ampere è una corrente abbastanza mostruosa un normale elettrodomestico consumerà massimo qualche ampere e qui iniettiamo 16.000 ampere 12.000 ampere scusate di corrente nel magnete per generare questo campo magnetico questo fa sì anche che abbiamo bisogno di un magnete molto speciale perché voi saprete che se voi fate scorrere corrente elettrica in un qualsiasi materiale anche in un cavo conduttore che quindi conduce molto bene la corrente il passaggio di questa corrente scalda il materiale d'accordo questo è il principio di una stufetta elettrica a volte lo vogliamo a volte no in questo caso non lo vogliamo quindi spingere queste correnti mostruose nel magnete se questo magnete fosse fatto di un materiale normale anche di un conduttore anche di rame per esempio lo scalderebbe a dei livelli assolutamente inaccettabili rischerebbe di farle evaporare sostanzialmente quindi per questo il magnete è fatto di un materiale molto molto speciale è una lega di due materiali un po' esotici si chiamano niobio l'altro è il titanio lo conoscete probabilmente e il secondo è il niobio e cosa ha di speciale questa lega questa fusione di questi due metalli ha di speciale che se voi raffreddate questa lega questo metallo a temperature molto 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 basse parliamo di 270 gradi circa sotto zero quindi quasi lo zero assoluto alcuni di voi sapranno che meno 273 gradi è la temperatura minima raggiungibile per questo si chiama zero assoluto non si può andare sotto quindi noi ci fermiamo poco sopra questa temperatura di zero assoluto ecco Sonia vi sta indicando una parte del sistema che permette di muovere queste fette quando c'è bisogno scusa non volevo interromperti era l'altro pezzo del verricello sì 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 ci sto passando vicino passiamo sotto alle fette e te lo faccio indico vai vai eh fai benissimo anzi quindi raffreddiamo il magnete questa lega di niobio titanio queste temperature perché si innesca un fenomeno fisico molto curioso che si chiama superconduttività forse l'avrete sentito dire e quello che succede quando un materiale diventa superconduttivo è che diventa un conduttore elettrico ideale sostanzialmente vuol dire che non oppone a un certo punto fa quello che chiamiamo una transizione di fase quindi passa da uno stato in cui si comporta normalmente quindi oppone una certa resistenza al passaggio della corrente se voi lo raffreddate a un certo punto passa in un secondo stato se volete improvvisamente in cui non oppone più resistenza al passaggio della corrente quindi questo effetto di riscaldamento dovuto al passaggio della corrente si spegne se vogliamo e quindi questo ci permette di iniettare queste correnti enormi nel magnete ecco vedete Sonia che fa riferimento alle dimensioni di CMS che è sempre una cosa abbastanza notevole io sono sempre abbastanza sconvolto dal fatto che un oggetto così grande poi di fatto riesca a misurare cose piccolissime cose piccolissime precisioni di milionesimi di metro mi sento particolarmente fiera qui perché in realtà ho fatto la stessa cosa con una foto ma vedi è un'altra impressione farlo col vero oggetto e non era non stavamo mentendo quando abbiamo detto che quella foto era uno a uno eccomi qua vicino al piede vedete io praticamente sì è vero sono piccolina però insomma cioè nel senso vabbè ma non così tanto non proprio nana ecco mettiamola così non piccolissima come si direbbe quindi ed effettivamente è impressionante impressionante essere qua e tenete conto è una cosa specialissima perché qua non ci potreste venire neanche se foste di persona quindi una virtual visit una visita virtuale vi permette di vedere di scoprire angoli di questa caverna che invece non potreste vedere pur venendoli a visitare qui questa è una qualcosa in più esatto cosa che comunque vi invitiamo a fare se siete curiosi è certo certo potete sempre venire a trovare il campo magnetico giochiamo con le graffette fuori con il campo magnetico allora io risalgo su va bene perfetto ci vediamo qua ci sono domande qua dentro richieste di vedere qualcosa se no risalgo su domande una domanda credo semente viene fatto soltanto una volta qua sono un'unice non so ma detto sono fermi anche da anni ma che quale motivo per manutenzione senti la domanda arberto poco poco se me la puoi ripetere mi fa un favore magari voi sapete spiegare viene fatto molto raramente in questo caso ma neanche a confine in realtà è un po' è un po' il contrario se vogliamo voi siete stati molto fortunati che in questo momento l'esperimento è spento ma di solito noi l'esperimento funziona H24 24 ore su 24 7 giorni su 7 sabato sera domenica notte noi prendiamo sempre dati e questo più o meno da aprile fino a circa fine novembre di ogni anno poi cambia un po' di anno in anno quando è che ci fermiamo? quindi noi prendiamo dati sempre in realtà quando è che ci fermiamo? ci fermiamo durante l'inverno tutti gli anni questo per due motivi il primo è che d'inverno noi consumiamo tanta corrente e d'inverno c'è una richiesta maggiore di corrente banalmente per scaldare le città della zona quindi questo è un motivo l'altro motivo altrettanto valido forse più importante è che comunque girando cioè lavorando 24 ore su 24 7 giorni su 7 di nuovo alcuni problemi escono fuori non sono problemi che ci impediscono di fare misure valide d'accordo però alcuni piccoli componenti magari sono difettosi qualcosa si rompe quindi usiamo diciamo questa finestra questa finestra da appunto fine novembre a circa aprile dell'anno dopo per mettere tutto in pausa aprire l'esperimento andare sotto e fare la manutenzione che ci serve quindi questa è il primo caso in cui ci fermiamo il secondo è quello di cui parlavo prima è quando invece ci fermiamo per periodi più lunghi questi si chiamano long shutdown per esempio l'esperimento l'LHC tutti gli esperimenti del CERN hanno preso dati dal 2016 al 2018 nel 2018 si sono fermati siamo fermati per quasi 4 anni e poi nel 2022 abbiamo ricominciato a prendere dati abbiamo preso dati nel 2022 tutto il 2022 tutto il 2023 stiamo prendendo dati adesso e prenderemo dati l'anno prossimo poi ci fermeremo di nuovo a cosa servono questi periodi di stop più lunghi servono a fare i lavori più grossi sia di manutenzione ma anche di potenziamento di upgrade degli esperimenti questi esperimenti sono in continua evoluzione d'accordo se volete sono delle grandi opere di artigianato mi viene quasi da dire perché non sono cose non sono strumenti industriali non potete anche se voi foste multimiliardari non potreste comprare una copia di CMS è stato assemblato ogni pezzo quasi a mano da persone per esempio a Firenze a Roma negli Stati Uniti in Cina in Giappone e poi assemblato al CEL quindi appunto la manutenzione ma anche il continuo potenziamento noi cerchiamo sempre di spingere la tecnologia al massimo di quello che attualmente è possibile chiaramente è un loop che va in due sensi da una parte noi cerchiamo sempre di usare la tecnologia più avanzata disponibile dall'altra parte anche quello che facciamo qua spinge la tecnologia in avanti quindi quello che facciamo abbiamo tutto un programma di evoluzione dell'esperimento per esempio appunto ora ci fermeremo dopo il 2025 per fare un grande upgrade cambieremo molti dei sistemi con versioni migliorate che sono state studiate negli anni per permetterci di fare della fisica ancora più precisa quando ricominceremo a prendere dati intorno al 2027 circa spero che rispondo alla domanda non sono appunto far notare come diceva anche Roberto che questa è una settimana speciale che siamo stati fortunati fortunatissimi l'acceleratore sta andando dall'aprile si è fermato per l'appunto per questa settimana non è che si è rotto era programmato però per l'appunto questa settimana dovevano fare degli interventi e quindi grazie a questo siamo potuti scendere giù e vedere gli esperimenti si rimaneva solo dove è Roberto ora che è la sala di controllo capita anche che si rompa l'anno scorso si è rotto si è rotto per un motivo molto buffo se volete un albero è caduto su una delle linee elettriche che alimentano il CERN e questo ha causato un disturbo nell'alimentazione che ha danneggiato una parte dell'acceleratore una parte di uno dei magneti dell'acceleratore e questo ha fatto sì che siamo dovuti stare fermi per diversi mesi mentre l'acceleratore veniva riparato purtroppo succede quest'anno sta andando meglio quindi ora siamo fermi diciamo in modo programmato solo per questa settimanina circa per fare dei piccoli aggiustamenti e per fare della manutenzione diciamo ordinaria dell'acceleratore però insomma altrimenti andiamo sempre quindi esatto come diceva Lorenzo siete stati molto fortunati a poter vedere i CMS dal vivo dalla caverna quella che chiamiamo sperimentale e non solo dalla caverna di servizio dalla sala di controllo c'è una domanda pronti io per una domanda sono trisciere cioè come fa a decidere quali sono le immagini migliori cioè in base a uno sconto frontale cioè fa a decidere quali sono le sconti frontali oppure si rimane fermo a quindi una domanda questa è un'ottima domanda in realtà noi a priori non vediamo la collisione vera e propria quindi non possiamo direttamente capire se la collisione era frontale o di striscio quello che noi possiamo fare è ad ogni collisione osservare cosa viene fuori e da quello capire se la collisione è stata probabilmente di tipo frontale o di striscio quindi se vuoi quello che succede è che il sistema di trigger fa una vera e propria analisi semplificata on the fly quindi sono dei sistemi dei microprocessori che fanno un'analisi molto molto rapida semplificata ma comunque ben studiata per cercare di capire di ricostruire già in modo grezzo ma comunque sufficientemente preciso quello che è successo nell'interazione quindi noi andiamo all'indietro sempre il gioco è sempre quello noi abbiamo i prodotti della collisione quello che viene fuori e dobbiamo riuscire di nuovo andare all'indietro riavvolgere il nastro e con quello che noi vediamo che è la parte finale la parte che arriva nei rivelatori dobbiamo andare indietro a capire cosa è successo nell'impatto quindi il sistema di trigger fa questa cosa qua in modo molto veloce in modo automatico è un sistema molto intelligente e quello che fa è fare questa analisi al volo se vuoi quindi veramente una volta ogni 25 nanosecondi e usando con quest'analisi riesce a capire quali eventi sono probabilmente interessanti dopodiché questi eventi vengono salvati e poi viene fatta un'analisi molto più esaustiva per poi andare effettivamente a capire cosa è successo collisione per collisione ho risposto spero di sì tra l'altro o no grazie grazie per il tempo torna a passare sì sì ho conceso puoi dire che stiamo facendo vedere un po' facciamo un giro c'è una domanda ancora sì si stava dormendo sì 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 benissimo buonasera ti senti? sì 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 buonasera io ho sempre una domanda sul trigger sul milletto che in realtà sono due uno che cioè sembrano delle università pazzesche quindi voglio sapere che tipo di microprocessore usate se ve li siete fatti voi oppure se li avete comprati così dalla non so dalla Intel e poi voglio capire quanto è intelligente questo trigger cioè se deve scartare e prendere non ho capito quante di quelle 40 minuti di collisioni prende e se tra quelle che scarta cioè voi magari in apertità scartate le cose che potrebbero essere interessate che potrebbero contenere delle condizioni cioè interessate ottimo tre domande eccellenti allora la prima a questo come dicevi il testamento trigger è su due livelli il primo che è quello rapido che deve fare rendere una decisione ogni 25 nanosecondi non è è su CPU è su FPGA per chi sa cosa sono le FPGA sono sostanzialmente dei processori riprogrammabili e questo ci permette di sostanzialmente decidere il comportamento di questi processori che quindi diventano molto efficienti a fare una cosa ben precisa ma in un tempo molto controllabile quindi quello che quindi questo è diciamo la tecnologia su cui si basa il primo livello del trigger il secondo livello del trigger ha più tempo perché gli arrivano meno event sono già stati preselezionati questo gira su CPU Intel e Intel MD e una farm quindi e anche GPU Nvidia perché alcune parti sono scaricate su GPU perché per chi sa di cosa parliamo la seconda domanda se non sbaglio quanto intelligente questo sistema giusto la risposta è molto in realtà perché possiamo adottare varie strategie se vuoi la strategia tradizionale fare una prima ricostruzione quindi da tutte le varie quelle che chiamiamo hit quindi tutti i vari punti in cui misuriamo il passaggio di una particella da rivelatore possiamo collegare i puntini se vogliamo e capire più o meno cosa è successo misurare l'energia delle particelle e decidere ok ci sono stati almeno due fotoni con un'energia al di almeno tot sì no ok poi abbiamo tante di queste condizioni che creano quello che chiamiamo il menu di trigger una specie di se vuoi di tabella di condizioni però non facciamo solo questo abbiamo anche degli algoritmi di intelligenza artificiale che girano direttamente sul trigger di livello 1 quindi degli algoritmi di machine learning disegnati da noi che girano già a questo livello che possono prendere una decisione se vogliamo più raffinata terza parte della domanda se ci sono degli eventi interessanti che scartiamo sì senz'altro perché questo è tutto un gioco probabilistico d'accordo quindi c'è c'è sempre qualcosa che scartiamo il gioco sta nel cercare di scartare meno eventi interessanti possibile e per questo motivo gli algoritmi di trigger sono in continua evoluzione che vengono continuamente aggiornati vengono fatti studi e anche a seconda del tipo di fisica che vogliamo fare possiamo cambiare il modo in cui si comporta il trigger abbiamo anche da quest'anno un trigger speciale che quello che fa è sempre un trigger di machine learning quindi intelligenza artificiale però un po' speciale quello che fa è l'abbiamo allenato su quella che è la fisica che conosciamo e chiediamo a questo algoritmo di guardare ogni evento e di dirci quali sono gli eventi che sembrano strani e questi eventi che sembrano strani li salviamo e poi li guardiamo dopo e vediamo se c'è qualcosa di interessante dentro ultima cosa e poi chiudo di quanto viene ridotta mi chiedevi quanti sono i numeri degli eventi che salviamo alla fine allora le collisioni sono 40 milioni al secondo il sistema di primo livello quindi questo sistema molto rapido ne accetta circa 110 120 mila al secondo quindi passiamo da 40 megahertz a 110 120 kilohertz questo numero di eventi viene mandato in superficie dove c'è questa farm di computer processori commerciali che fa appunto un'analisi più approfondita e alla fine salviamo circa due 3 mila eventi al secondo quindi dai 40 di milioni di eventi al secondo che il rivelatore legge quello che salviamo sono due 3 mila eventi al secondo questi poi li scriviamo sul disco e poi li analizziamo che è la parte poi su cui lavoro io se posso aggiungere bisogna dire che nonostante tutta questo filtro che applichiamo alla fine la quantità di materiale che ci resta in mano di eventi che ci restano in mano contiene comunque la fisica più interessante almeno e sono diciamo densi di significato e di fatto ci possiamo fare tutte le analisi che sono quelle standard cioè di fisica che conosciamo già dal passato e quella ci serve come controllo perché se quella la conosciamo bene il fatto di ritrovare gli stessi risultati vuol dire che il rivelatore sta funzionando bene perché li riconosce e nello stesso tempo possiamo fare anche analisi di fisica che non conosciamo determinare le anomalie e quindi sembrano pochi ma poi in realtà cioè sono i dati comuni dove se lui lavora sul bosone di X e io lavoro sui W riusciamo a trovare sono due analisi completamente diverse ma riusciamo a trovare comunque i nostri dati là dentro con sufficiente statistica poi anche perché il trigger è disegnato per avere questo mix di eventi esatto questo è quello che dicevi che uno fa questa specie di mappa che decide all'inizio della presa dati ecco mi veniva mi faceva sorridere il fatto si perdono gli eventi perché invece in AMS siccome non si spengono le particelle che arrivano perché arrivano sono raggi cosmici arrivano dallo spazio quindi non potete dire ok adesso fermo le LHC non faccio più le collisioni di fatto quando succede raramente ma succede che uno debba fermare l'esperimento per esempio quando è stato riparato da Parmitano abbiamo dovuto fermarlo e si perdono dati e quindi si ferma con l'idea che forse proprio in quel momento sono passate alcuni segnali che erano interessanti che avremmo dovuto prendere e però insomma questa è la fisica insomma tra l'altro in realtà poi non è così rose alla faccenda dal lato CMS nel senso che c'è un po' di discussione interna sempre su quanto del trigger dedicare a un certo tipo di fisica piuttosto che a un altro tipo di fisica si discute diciamo il numero di eventi che possiamo salvare è limitato a questo circa 2-3 mila al secondo vogliamo fare tante cose e quindi si tratta un pochino di trovare dei compromessi possiamo dire che è la tecnologia che limita invece quello che è poi come dire il pensiero è l'ipotesi che possiamo fare teoricamente un po' come il fatto che il bosone di Higgs alla fine lo abbiamo rivelato sperimentalmente dopo 48 anni c'era stato qualcuno il signor Higgs che ricordiamo perché è recentemente scomparso che 48 anni prima aveva detto che cercate perché magari questa particella potrebbe esistere ci sono voluti 48 anni per costruire una macchina che permettesse di avere tanta energia da poterlo produrre così funziona insomma nel senso collaborazione scientifica avete altre domande? altre curiosità? curiosità pronti? comunque tra tutti questi interventi questi eventi positivi che voi fate quella più che ha dato un significato quella che la scoperta che più positiva in questo caso per voi quale è stata? per capire a noi da profana e a parte i bosoni questa cosa il risultato cosa si va a cercare cosa poi noi siamo felici di essere arrivati a trovare ecco beh se devo dire un risultato devo dire il bosone di Higgs perché è stato un po' diciamo il santo grallo sì sì era un po' l'ultimo tassello mancante noi avevamo questa teoria spettacolare che sostanzialmente descrive quasi tutti i tipi di interazione i tipi di materia che conosciamo in natura d'accordo è una teoria che descrive tutta l'elettricità il magnetismo e descrive le interazioni nucleari descrive come il protone sta insieme tutto in un'unica teoria una cosa abbastanza spettacolare se non ci penso e l'unica cosa che mancava era un tassello che permettesse di spiegare come fanno le particelle avere massa non zero alcune particelle hanno appunto una massa l'elettrone ha una massa piccola ma ce l'ha il fotone no non era chiaro come facessero le particelle avere massa il motivo è un po' complicato però la sostanza è questa aver trovato il bosone di Higgs è stato veramente diciamo il completamento della nostra comprensione di come funziona la materia a livello più fondamentale cioè come i costituenti ciò che costituisce la materia i costituenti della materia i mattoncini di cui siamo composti tutti noi si parlano l'un l'altro e interagiscono stanno insieme dopodiché non è solo questo che facciamo facciamo tutta una serie di misure qual è lo scopo lo scopo è duplice come diceva anche Sonia da una parte confermare quello che già sappiamo in modo sempre più preciso perché c'è sempre un margine di errore in tutte le scienze c'è un margine di errore quindi noi continuando a lavorare possiamo controllare in modo sempre più preciso che la nostra conoscenza attuale che diamo per assodata diamo per buona sia effettivamente corretta ogni teoria è valida fino a un certo punto finché non viene smentita la gravità di Newton era data per vera fino al novecento poi Einstein ha detto no in realtà è un po' diverso e allora abbiamo aumentato la nostra conoscenza e questa è proprio la seconda direzione di quello che facciamo qua cerchiamo quello che ancora non sappiamo perché ci sono tante cose che ancora che ancora non sappiamo ci sono cose che sappiamo di non sapere ci sono tantissime cose che non sappiamo neanche di non sapere e quindi l'altra l'altra faccia di quello che facciamo qua è cercare in tutti in tutte le direzioni in questi dati in questa enorme memoria di dati che raccogliamo qualsiasi indizio anche piccolo indizio che ci possa dire guardate quello che pensate di avere capito è vero fino a qui ma dopo c'è qualcosa che non avete ancora capito e a quel punto il gioco diventerà esplorare questa parte qua per capire per capire sempre di più insomma la natura come è fatta io se posso aggiungere perché è vero questa parte qua questo modello che lui che appunto Roberto stava descrivendo è estremamente preciso ed estremamente anche predittivo cioè ci permette veramente di predire senza fare senza fare senza fare l'esperimento volendo perché lo abbiamo già verificato in passato però lo devo dire tu l'hai solo accennato perché hai parlato della parte bella se potessimo confrontare dire quello che dovremmo conoscere e non sappiamo come diceva Roberto se esattamente tutto quello che ci immaginiamo come una una grande torta e quello che sappiamo veramente fare bene e descrivere attraverso questo modello è una fetta piccolissima che corrisponde al 5% di questa torta il resto non ne sappiamo assolutamente niente a volte abbiamo delle indicazioni dell'esistenza tipo non so forse avete sentito parlare di materia oscura di energia oscura sappiamo che esistono cioè vediamo gli effetti della loro esistenza ma non sappiamo spiegarli e quindi questo è anche interessante perché appunto il bosone di X ci ha dato quest'ultimo tassello all'interno di questo 5% ma in realtà un fisico o meglio un ricercatore per natura è colui che ricerca se uno gli toglie la possibilità di avere l'incognita la cosa non conosciuta è deluso infatti tu sei giovane ma nei corridoi quando si è scoperto il bosone di X c'erano tanti fisici che dicevano speriamo che non ci sia perché? perché mettere questo tassello voleva dire in qualche maniera chiudere un pochino un piccolo capitolo che poi in realtà non lo chiamerei piccolo beh piccolo sì è il 5% diciamo sappiamo di non sapere però insomma e poi permettimi di dire anche un'altra cosa perché è vero noi adesso stiamo parlando da fisici e quindi da appassionati del settore da quelli che hanno deciso di fare della fisica il proprio mestiere la propria vita e magari ci sono invece persone che hanno deciso di percorrere altre strade altrettanto non siamo speciali siamo ognuno deve fare il suo lavoro e fare le proprie scelte e possibilmente seguire le proprie passioni però questo lavoro ci permette anche di appunto l'avete visto costruire oggetti che poi possono essere riportati nella vita di tutti i giorni cioè quando noi conosciamo le particelle per esempio studiamo l'antimateria una cosa che fa anche AMS ma che si fa anche qua abbiamo le antiparticelle e poi queste antiparticelle le utilizziamo negli ospedali per fare una PET la famosa indagine medica che si fa la PET pista per positrone non altro che un antiparticella e ci salviamo le vite perché magari riusciamo a fare delle immagini così precise che ci fanno vedere che c'è un tumore e quindi possiamo salvare le persone oppure possiamo usare le particelle perché conosciamo come si comportano e quindi le inviamo a bombardare dei tumori per distruggere il DNA di queste cellule tumorali e allora vedete come in realtà forse per noi fisici per noi ricercatori ha senso semplicemente la curiosità la conoscenza ma in realtà tutta la collettività poi alla fine usufruisce del trasferimento tecnologico che noi sviluppiamo Roberto ha detto un'altra cosa io la sentivo mentre stavo giù hai detto qui noi facciamo delle cose che voi non potete comprare ma non è solo per i soldi è proprio perché non ci sono fuori cioè la tecnologia che abbiamo adesso che usiamo adesso noi l'avevamo sviluppata dieci anni vent'anni fa ma non è ancora tutta fuori pensate solo al touch screen che è stato pensato qui al CERN nel 1973 ma l'abbiamo cominciato a usare nella vita di tutti i giorni direi non so quindi dieci anni fa direi una cosa del genere più o meno a livello commerciale non era esattamente lo stesso quindi in realtà noi per fare i nostri giochini teniamoli così in realtà sviluppiamo tecnologia che poi viene portata fuori e viene e può essere usufruita da tutte le parti adesso non so fare altri esempi ce ne sarebbero miliardi adesso vuole fare un altro può dire l'esempio del web il web esatto è nato come perché per il bisogno di fisici del CERN di scambiarsi rapidamente i risultati i dati soprattutto di non portarsi tonnellate di carta da un esplice all'altro e poi la gente ha pensato ma questa cosa forse è utile anche fuori dal CERN e infatti così è stato e diciamolo il CERN non ha copyright non ha brevetto quindi tutte le cose che noi facciamo sono rilasciate senza brevetto la famosa licenza che paghiamo a devo dire tutte Apple Microsoft eccetera no dal CERN il web il WW come lo chiamiamo noi in Italia non è non lo paghiamo noi paghiamo la connessione internet per trasportare i dati ma non paghiamo l'utilizzo del web fammela dire questa perché la voglio dire dalla ricerca spaziale sono usciti fuori i pannolini per i bambini i Pampers io li chiamo con la marca ma insomma sono stati inventati pensati inventati per gli astronauti quando facevano i viaggi perché chiaramente abbiamo delle esigenze corporali loro devono stare qualche giorno nei moduli quando facevano i viaggi sulla luna perché parliamo degli anni 70 e hanno inventato i Pampers e tante altre cose quindi direi che l'impatto io se dovessi dire come risultato al di là del risultato scientifico non c'è sì è vero sono d'accordo con te l'X forse è una cosa fenomenale ma in realtà io mi entusiasmo anche soltanto se vedo che ho tolto un baco al programma che funziona quindi non lo so ma questa sono io l'altra cosa è l'aspetto collaborativo certo penso che lo stiamo dimostrando anche noi quello ma anche il fatto che veramente lavorano persone da ogni angolo del globo e anche questo è molto bello è una cosa abbastanza unica ci sono più di 100 nazioni che partecipano al CERNO con persone tecnici ingegneri tutti i livelli di istruzione non bisogna essere solo accademici diciamo così con dottorato e anche di diversa esperienza è davvero è davvero stimolante dal punto di vista intellettuale in ogni senso direi avete altre curiosità non so se abbiamo ancora tempo io andrei avanti tutta la sera esatto c'è un'altra domanda perché poi mi sai che dobbiamo chiudere perché siamo arrivati a tutto tutti ok ok perfetto io volevo domandare se manipolare i fondamenti della natura e della fisica potrebbe comportare dei rischi o se questo diciamo non lo direte è probabile non direttamente sicuramente no direi neanche indirettamente vuol dire tutto e niente però diciamo che non c'è un rischio diretto in quello che facciamo qua se non i rischi di alta tensione che possono generare incendi ma come qualsiasi posto però diciamo rischi dovuti al fatto che noi facciamo queste collisioni non ci sono e questo il modo in cui mi piace sempre pensarlo è che come accennavamo prima dallo spazio arrivano sulla terra continuamente particelle a energie molto più alte di quelle che noi abbiamo qua quindi se ci fosse una possibilità di che si generi qualcosa di pericoloso da queste collisioni sarebbe già successo nei miliardi di anni che la terra è stata a prendersi tutta questa ondata di particelle dal cosmo questo non è successo quindi siamo ragionevolmente sicuri che quello che facciamo qua non ha nessun rischio da quel punto di vista sì forse dobbiamo dirlo anche il fatto che l'acceleratore si trovi a 100 metri di profondità non è perché è pericoloso e come ho detto prima non c'è assolutamente ragione per cui uno si debba mettere di fronte al fascio di particelle visto che non si vede niente visto che non è un rivelatore non è utile messo lì di fronte quindi si fa in una stanza chiusa il fatto che l'acceleratore sia interrato e perché penso sia stato detto la lunghezza di 27 chilometri quindi copre una superficie così ampia che nel momento in cui io lo devo installare non è che lo posso mettere dove ci sono le strade le case devo scendere perché puoi scendere interrarlo a meno 100 semplicemente perché si cercava uno strato stabile di roccia dove poggiarlo e questo strato sufficientemente largo di roccia è stato trovato a meno 100 metri quindi soltanto per questo è una questione proprio pratica un acceleratore che al Fermilab di Chicago è all'interno di un parco nazionale quindi dove lì in realtà siamo più noi fisici che ci preoccupiamo dei bufali che pascolano e che quindi potrebbero rovinare l'acceleratore quindi la cosa più pericolosa dell'LHC probabilmente è l'elio che usiamo per raffreddarlo sì quella è l'unica cosa forse ma anche nel caso in cui c'è stato appunto abbiamo avuto un incidente che è successo nel 2008 che ha bloccato poi per un anno perché abbiamo dovuto riparare dei pezzi ma anche quella cosa è successa è successa non c'era pericolo perché non c'era nessuno lì sono i pericoli che ci sono in qualsiasi complesso industriale e non produciamo livelli di radiazione come per esempio anche se adesso le centrali nucleari sono iper sicure quelle che facciamo perché la tecnologia è totalmente cambiata perché anche la maniera di gestire il nucleare ci sono cambiati i processi anche i raffreddamenti quindi non è più come è chiaro che noi abbiamo l'impatto di Chernobyl e ce lo ricordiamo ma le centrali nucleari moderne non hanno più quella tecnologia però noi non produciamo quel tipo di radiazione quindi non ci serve non dobbiamo farlo così quindi la risposta è no diciamo non succederà niente di strano no il famoso buco nero che dovevamo fare no perché se anche se li facciamo si dice che evaporano e quindi di fatto si compongono e si scompongono quindi nemmeno il buco nero che inghiotta la terra nemmeno quello in questo periodo di guerra e così la vostra cooperazione avete parlato di mondo è sempre collegata tutti insieme oppure avete avuto soltanto questa è una domanda difficile questa è una domanda difficile sì diciamo che non è non è stato e non è semplice perché chiaramente faccio un esempio l'esempio che abbiamo tutti in mente penso sia la questione russa senza entrare in meriti che chiaramente non è il mio compito però noi lavoriamo con persone ucraine e con persone russe e quindi chiaramente tenere insieme questa situazione non è non è facile non è stato facile non è ancora facile ancora adesso stiamo discutendo di come fare cerchiamo sempre per quanto possiamo di tenere insieme il più possibile le persone con cui lavoriamo perché alla fine siamo tutti colleghi e anche il suo bello non è sempre facile in questo caso non è banale e non è neanche tutto in mano nostra però ci proviamo senza altro diciamo che a livello personale non ci sono grossi problemi perché qui abbiamo sempre avuto gruppi di lavoro per esempio tanto per dirne una c'è proprio un club non solo gruppo di lavoro tra israeliani e palestinesi c'è sempre stato lavorano i turchi con i greci i pakistani con gli indiani quindi questo noi a livello personale non abbiamo ma chiaro l'eccezione può sempre esserci ma come ci può essere magari che a me non è italiano santipatico non ci voglio lavorare insieme mettiamola così quindi è vero che il Senna ha preso una posizione ufficiale sulla Russia che se non sbaglio è semplicemente che c'è qualcosa sugli istituti russi ma non sulle persone quindi che possono firmare personalmente se credo una cosa del genere una posizione ufficiale per comunque perché era necessaria ma di fatto poi la collaborazione personale continua perché perché nella nella costituzione del CERN viene chiamata la convenzione che è stata stilata tra il 52 e il 54 dai padri fondatori del CERN tra cui tra i vari paesi c'era c'è anche l'Italia e c'era Edoardo Amaldi che è stato il primo che all'epoca si chiamava segretario generale ma che era il direttore generale c'è scritto che non si fa discriminazione né di genere né di né per livello né per idee politiche né per idee religiose di nulla quindi ed è modernissima questa cosa se pensiamo che noi adesso siamo tanto sensibili a questo argomento mentre invece all'epoca sicuramente non lo era pensiamo agli Stati Uniti del 1950 insomma è il tempo di Rosa Park quindi a livello personale direi che non c'è nessun problema tranne le antipati personali che quelle sono normali della vita di tutti i giorni a livello ufficiale ne risentiamo è un tempo più complicato probabilmente però però non è vero che non abbiamo non abbiamo colleghi russi semplicemente che non ci sono alcune alcune cose che sono state bloccate ma a livello ufficiale di istituzioni non di di lavoro personale nessuno è stato scacciato esatto esatto assolutamente grazie io direi che appunto siamo andati un po' lunghi di quanto previsto però ci stanno raccontando un sacco di cose interessanti quindi anche anche giusto ora gli abbiamo rubato un sacco di tempo però vorrei ringraziare Roberto e Sonia facciamo un altro grazie no grazie a voi delle belle domande sì assolutamente è sempre un piacere grazie ancora e buonanotte a questo punto buonanotte buona serata grazie 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 forza a figliando grazie a tutti